buongiorno sono le 6 di mattina e adesso mi faccio un bel caffettino moca vera moca sembrerebbe sono arrivato al molo benvenuti al molo di lucinda siamo sotto al molo non non ma 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 che dire ragazzi questo è Mission Beach questa è Mission Beach non c'è nulla da dire wow wow è valso la pena fare 15 km di deviazione dalla strada principale verso Cairns per arrivare qui e trovare questo a dir poco fantastico penso che mi fermerò qua per pranzo che erano